Ciao, sono Vanda e un nuovo videotutorial per te. Quinto videotutorial della stagione autunno-inverno 2022. Cosa facciamo? Allora, visto che qualche anno fa avevo fatto una punta dell'albero e vi è piaciuta tantissimo. E quest'anno mi sono detto, ma perché non farne un'altra e trovare una soluzione diversa? E quindi così ho fatto. Si intitola più in alto delle stelle, perché proprio in cima in cima. Quindi questo è il nostro tutorial. Praticamente questo qui è una doppia stella che noi infileremo nella punta dell'albero, in questo modo, e ci appenderemo questa sorta di angioletto, se volete ci mettete le ali, diventa un angelo, se no, semplicemente una pigottina ben augurante. Ma vediamo com'è fatta questa pigottina. Allora, abbiamo le braccia fatte piene, riempite col filo di ferro, così anche se sei principiante riesci comunque ad avviarti a fare una pigottina intera. E poi abbiamo un giochino di torsion con il vestitino. Ma andiamo a vedere come si fa. Testa da 40, lo dico in anticipo, così possiamo incominciare e stavolta faremo anche tutta la testolina con l'acconciatura. Come sempre vi dico di iniziare dalla testa, ma semplicemente perché è quella che ci porta via un po' di stress. Quindi una volta fatta siamo rilassati e possiamo continuare con tutto il resto del lavoro. Testina, pallina da 40 mm e spillino bianco. Quindi non utilizzate mai questa parte che è quella della saldatura, la utilizzate solo da appoggiare al tavolo e nella parte centrale ci andiamo a mettere lo spillino, così, in questo modo. Deve essere infilato e deve rimanere a filo della nostra pallina. Poi prendiamo il cerchiolino di Toile, sul cartamodello lo trovate già della dimensione giusta, ago e filo forte, e facciamo la filza su tutto, la filza o il punto sopraggitto, dipende come vi piace di più, su tutto il perimetro della nostra Toile. Così ci giriamo tutto intorno. Allora, dico sempre, utilizzate il filo forte, non servono dei punti fitti, no, semplicemente tutto il perimetro. Dicevo, usate il filo forte perché dopo c'è da tirare bene e quindi deve aderire benissimo alla nostra pallina. Ok, la Toile è un materiale che abbiamo in esclusiva a noi, è un bi elastico, quindi non sfila, appoggio la Toile. Esiste un dritto rovescio? Sì, esiste, ma non è importante perché non si nota quando l'andiamo a lavorare. Appoggiamo la punta dello spillino al centro della Toile, tengo stretto con due dita, tiro forte il filo e vado a chiudere. Io mi appoggio sempre col filo al dito così riesco a tirare bene tutta la Toile. Ok, così. Basta qualche punto, tanto dopo quando ci metteremo la colla per fare l'acconciatura, finisce di chiudersi tutto quanto. Allora, con le forbici tagliamo il filo, tagliarlo, vedo che qualcuno lo lascia sempre lungo, non lasciatelo lungo, tagliate e via. Allora, una volta fatto questo, andiamo a truccarlo. Quindi, terra, prendiamo la nostra terra, il pennellone e poi prendiamo il fard e la spugnetta. Allora, testina, teniamo sempre coperto la punta del nasino, parto da dietro così l'eccesso rimane dietro, l'eccesso di polvere e faccio tutto il giro in questo modo. tutto, 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 lo uso il nasino come perno e faccio il giro così. Et voilà. Se vedete, anche se viene più scuro qua, non me ne frega niente, perché dopo poi quando ho l'acconciatura viene coperto. Poi, una volta fatto questo, prendo il fard e prendo con la spugnetta, raccolgo un po' di fard. Devo avere la trama che è dritta di fronte a me, così. Mi appoggio con la spugnetta alla guancetta, così, e vado a sfumare con la parte liscia della spugnetta. Ok, uno. Mi appoggio, faccio un'altra macchia di qua e vado a sfumare. Quando dico sfumare, proprio dovete grattugiare per bene da una parte e dall'altra. Ok. Così, così viene sfumato. Allora, aspettiamo perché dopo poi mi serve ancora. Allora, per fare, disegnare la nostra faccina, usiamo le pigofaccine. In questo caso, prendo la pigofaccina con gli occhi chiusi e la vado a posizionare sopra alla mia testolina, così. Faccio aderire bene la parte dove c'è la lunetta e lascio sollevata questa parte qua. È come se tagliasse in orizzontale a metà la mia sfera, quindi devo essere molto aderente con questi punti qua. Allora, prendiamo quattro spillini, due e due, quattro, e andiamo a fare questa cosa. Li puntiamo appena appena per un pezzettino, appena appena la puntina, dove ci sono queste lineette qua, che sono segnate, dove c'è scritto occhio. Questi mi danno il punto esatto di dove andare a fare il segno con la penna. Così. Una volta fatto questo, con la penna gel andiamo a segnare la base dei nostri puntini, con un puntino appena appena accennato. Tolgo gli spilli, così, e si intravedono appena appena. Proprio una traccia minima deve essere. Dopodiché, prendiamo il cerchiometro e andiamo a disegnare gli occhietti. In questo caso possiamo usare anche un buchino del 20. Non guardate mai gli assi del cerchiometro, ma dovete andare a puntare il vostro archetto su quei due puntini che abbiamo fatto. Mi appoggio al tavolo, appoggio anche la mano al tavolo, e vado a fare il primo occhio. Giro e faccio anche il secondo. Devo puntare proprio con la sfera. Essendo sferica la pallina ed essendo bucato questo, riesco a fare questa operazione. E ho gli occhietti. Le ciglia mi metto sempre in verticale, non inizio mai in fondo, ma lascio un millimetro almeno e faccio uno, due, tre. Vado da questa parte, lascio uno spazio e faccio uno, due, tre. Ve li faccio apposta, molto corti, perché così col tempo vi verrà da farli lunghi, ma le prime volte vi consiglio di farli cortini. Devono essere dei segni veloci e cortini. Allora, una volta fatto questo, possiamo anche fare il sorriso con sempre il cerchiolino della pigofaccina. Quindi lo vado a posizionare il buchino dove c'è il naso e dove ho questo tratteggio qua, devo tenere stretto con le due dita così. Dopodiché con lo spillino punto la proiezione di questa lineetta e punto la proiezione di quest'altra lineetta, così. Quindi una volta fatto questa cosa qua, ho i due riferimenti che mi servono, lineetta e lineetta, per poter segnare col cerchiometro e poi disegnare col cerchiometro. Quindi sfilo questo, prendo sempre la mia penna gel, ci faccio un puntino e un puntino, sfilo i miei spillini, mi appoggio al tavolo, sopra la mia pigofaccina ho scritto anche il diametro di riferimento. Diametro 26 è il diametro di riferimento del cerchiometro per la testina da 40. Quindi prendo, diametro 26 è questo, anche qui vi consiglio di non guardare assolutamente gli assi, perché non sono quelli che contano. Noi dobbiamo andare a catturare solo i due puntini. Giro in modo che vada vicino alla mia penna, così io riesco a tenere la mano appoggiata al tavolo e in un segno unico faccio il sorriso. Così. Adesso dobbiamo fare i punti luce. I punti luce li facciamo con la nuova pittura luce, si chiama. È un prodotto esclusivo che abbiamo fatto fare noi, quindi ha il nostro marchio. Raccogliamo la luce, ce lo mettiamo in verticale, e poi tra l'occhio e la bocca io appoggio, prendo una bella goccina perché devo fare la guancetta, appoggio qui e dal centro parto e allargo la mia macchia. In questo modo, così. Uno, poi facciamo puntino, un altro sotto e un altro qua in fianco. Così. Faccio la stessa cosa di qua, quindi appoggio la mia goccia, l'allargo, secondo me lì davanti l'altra parte io riesco a vedere quello che sto facendo e mi fermo alla larghezza giusta. Quindi facciamo puntino, un altro sotto e uno tra i due. E questa è la mia faccina fatta. Allora, una volta fatto questo, chiudo sempre, tenete sempre chiusa la luce, se no si secca, dovesse addensarsi un pochino potete aggiungere un po' d'acqua, perché comunque è sempre a base di acqua. Allora, una volta fatto questo, io cosa devo fare? Farci i capelli. Perciò prendiamo la nostra lana e andremo a fare su tre dita la frangetta. Quindi direi che per la frangetta bastano dieci giri. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Taglio. Taglio sopra e taglio sotto e mi appoggio al tavolo così. Poi dobbiamo andare a fare invece la matassina. Allora, la matassina la dobbiamo fare lunga, 60 centimetri, per direi circa 25 giri. Quindi, 60 centimetri, uno, arrivo qua, così sono 60 centimetri. Ecco, sto attento perché tende, essendo una bouclée, a essere molto elastica. quindi, due, ok, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, sette, diciotto, diciannove, venti, ventuno, tdue, td3, td4, e venticinque. I miei venticinque giri ci sono, togliamo questo che è in mezzo ai piedi, lo leggo con un filo lungo come tutta la matassina, così, e lo leggo al centro, in questo modo. Poi, stringiamo bene, stringiamo bene, così, e voilà, la matassina è fatta. Allora, prima operazione, andiamo a mettere la frangia. Per mettere la frangia, il consiglio è, usate la penna cancellabile, e facciamo un segnetto all'estremità dell'occhio, molto vicino all'occhio, un segnetto all'estremità dell'altro occhio, un segnetto in mezzo, i due, così. Si è creata questa linea, che è molto vicina agli occhi, deve essere molto vicina agli occhi, che è il limite dove dobbiamo arrivare con la colla a caldo. Allora, se noi utilizziamo la penna che scompare, con la colla a caldo, effettivamente scompare. Quindi, passo qua sopra, colla, fino a metà testolina, raccolgo la mia frangia, senza schiacciare l'appoggio, così. Poi, è molto irregolare davanti, quindi va benissimo così, col dito appoggiato, ma deve rimanere leggerissimo, non dovete schiacciare nulla, così, solleviamo, e andiamo a mettere un po' di colla, anche qui dietro, così, e facciamo questa cosa. Mi appoggio qua, se per caso siete stati abbondanti qua, vi appoggiate con le forbici, la cucitura e tagliate, e poi andiamo a rifilare la frangia. Allora, il mio consiglio, rifilate sempre la frangia a questo punto, non aspettate la fine, perché è un punto di riferimento la frangia. Ok, così. Allora, una volta fatto questo, dobbiamo attaccare la matassina, quindi io prendo la mia testolina, la metto di fronte a me, le faccio ciao ciao, la rigiro, quindi è appoggiata la mano sinistra, ma vado ad applicarla qua, quindi colla sulla matassina, così, e la metto sopra alla cucitura, in questo modo. Poi cosa possiamo fare? Possiamo prendere il nostro cerchiometro, e andare a fare un cerchiolino di contenimenti, per segnare qual è il contorno del viso. Allora, direi che il buco 32 potrebbe andare bene, sulla testina da 40, quindi mi appoggio il mio cerchiometro, devo ottenere questo risultato, quindi si va a stringere il campo dove deve arrivare il capello. quindi facciamo un segno sempre con la penna cancellabile, così, poi lo rigiro, intanto finisce di attaccarsi, allora, 32, così, deve essere esattamente speculare all'altro, quindi bene o male cerchiamo le stesse distanze, così, tutte queste indicazioni, esiste un bellissimo videocorso, che abbiamo sul nostro sito, per imparare a fare testine e conciature, quindi potete utilizzare anche quello, è molto bello, fatto molto nel particolare, quindi si spiegano tante cose che si possono imparare. Allora, una volta fatto questo, io cosa faccio? Tengo la testolina di fronte a me, e faccio questo primo lato, quindi colla sulla mia, sul mio segno, così, poi la testa deve essere giù, verso il basso, rivolta verso il tavolo, e appoggio senza schiacciare niente, poi giro, metto il pollice sotto, ops, giro, metto il pollice sotto, mi era scappato, e faccio l'altro lato, così, e faccio cadere sempre in perpendicolare i miei capelli, così, qui dietro non metto colla, ma mi appoggio al tavolo, così, una volta fatto questo, prendiamo un filo di lana lungo come la matassina, sempre, così, poi, l'operazione è questa, la testa è parallela al tavolo, faccio scivolare il pollice sotto, catturo con tutta la mano, i capelli devono rimanere perpendicolari alla testa, giro il mio pugno, catturo il filo, e lo giro due o tre volte, così, se è bello tirato, potete anche mollare prima del nodo, che non si aprirà nulla, così, perfetto, andato, questa è la base dell'acconciatura, per pettinarla, semplicemente potete sbatterla, allora, adesso cosa dobbiamo fare, facciamo un torsion, così, passiamo di fianco, così, tengo stretto con la mano sinistra, continuo il torsion e lo faccio qua, sulla parte di dietro, poi continuo il torsion e vado di qua, così, e poi arrivo qui, allora, il contorno è stato fatto, l'importante è arrivare sempre con i ciuffi in alto, ma poi tanto facciamo anche dell'extension, ecco qua, perché andiamo ad arricchirla un pochino, l'extension ci aiuta sempre a riempire quelle parti che non sono troppo piene, quindi, adesso, un goccino di colla, facciamo in modo che si chiuda, qui, un pochino anche qua, e voilà, allora, adesso ci metto qualche spillino, che intanto finisce di incollarsi, così, è sufficiente, e prepariamo l'extension, allora, in genere l'extension le preparo sulle quattro dita, un po' aperte, ci facciamo 10-12 giri, tra 4-5-6-7-8-9-10-11-12, possiamo anche fare uno in più, poi, a seconda di come abbiamo fatto la testina, può venirci un extension o due, dipende sempre da, se vogliamo riempirla di più o riempirla di meno, leghiamo sempre con un filettino di lana, così, tiro qualche filo qua e là, in modo che diventi un po' spettinatino, goccetta di colla dove c'è la legatura, posso già togliere il mio ciuffetto, poi la guardo, e metto qua a riempimento della zona che era un pochino vuota. Allora, una delle decorazioni che facciamo in questa testolina è, pezzettino di pizzo Ariel, in questo caso abbiamo usato il panna, filza al centro, può essere dai 25 ai 30 cm, quindi arriccio, arriccio, lasciando un po' morbida l'arricciatura, allora possiamo, visto che c'è il nodo da una parte, possiamo fare così, no, questo qui è storto, ne prendiamo uno non storto, rinfilo l'ago, così, e lo fermo, lascio, quanti centimetri ve lo dico subito, un 7-8 cm di allungamento, così, e così, lo fermiamo, ho tirato un po' di più, adesso lo ritiriamo, ecco, ok, una volta fermato il filo, un po' lo devo fermare, perché se no si torna ad aprire, taglio, lo apro un pochino, e poi lo andiamo a sistemare, tipo qua così, dove c'è quella piegatura qua, così, lo ripiego in due, e posso aiutarmi un po' con, ops, con le forbici, a fare questo giochino qua, poi una stellina, e voilà, abbiamo fatto la nostra testolina, allora, adesso mettiamo a riposo la testolina, e andiamo avanti con il resto, prima cosa, facciamo le braccia, trovate sul cartamodello, scaricabile e gratuito, il braccino, il disegno del braccino, quindi, con il gira e rigira, vediamo se basta questo, perché se no, devo usare quello più piccolino, ma ho idea che ci voglia quello più piccolo, beh, beh, no, prendiamo quello più piccolino, quello più piccolino, è meglio, perché se no, rischiamo di andare a aprire le cuciture, ok, questo sì che funziona, quindi, in questo caso, ho usato la puntina, perché è molto più sottilino, quindi, essendo molto piccolino, fate un pochino più fatica, ma, non si rompe, perché la telecru è molto, molto, rigidina, quindi, resiste, prendiamo la pinza, e un po' di imbottitura, incominciamo a imbottire, ok, infiliamo bene l'imbottitura, ovviamente, lo facciamo rigidino, ma non che diventi rigidissimo, perché, se dobbiamo mettere il fil di ferro, avremmo, potremmo avere dei problemi dopo infilarlo, quindi, ovviamente, essendo un braccino piccolo, si fa anche presto, infilarlo, ok, e voilà, così, fino al fondo, ok, prendiamo il nostro fil di ferro, come sempre, rigiriamo la punta, così, bastoncino del gira e rigira, e andiamo a, qui lo faccio, ok, qui, oh, si, si è rintoppato, ok, voilà, fino in fondo qua, in questo caso, si deve tagliare via, un pezzettino di fil di ferro, perché è fin troppo lungo, ok, e andiamo a chiuderlo, ci aggiungo un altro po' di, imbottitura, perché deve arrivare proprio a filo lì, ago e filo, e chiudiamo, sempre in tondo, il nostro braccino, così, tutta la chiusura generale, ma in piatto, perché vedo che molti lo fanno in piatto, ma non va bene, perché si creano delle sporgenze, che poi è difficile, riuscire a, mettere a posto, ecco qua, e voilà, questo è fatto, le nostre braccia, ci sono, allora, come ultima cosa, facciamo, un giro con il nastro garza, verde salvia, così, giriamo tutto intorno, in questo modo, mi fermo dalla parte di sotto, quindi, poi posso fermarmi anche prima, qui, dove ho il filo di ferro, così, e voilà, taglio a filo, uno, ho anche le forbici, piene di colla, fantastico, poi, facciamo l'altro, quindi, il filo di ferro è qua, perciò l'altro, lo voglio che gira così, voilà, e facciamo il giro, in questo senso, non si vedranno quasi, però è un tipo di rifinitura, che a me piace tanto, quindi, glielo facciamo, ok, e questo è fatto, dopodiché, pizzettino, di verde salvia, lungo, esattamente, vi dico subito la misura, così, 20 centimetri, filza al centro, in questo modo, e andiamo a legarlo sul polso, così, due nodini, eccoci, lo mettiamo dalla parte di dietro, quindi lo farò scivolare dietro, così, e faremo in modo che stia così, uno, e l'altro, e l'altro, ecco, così, e chiudiamo anche questo, così le braccia sono fatte, ok, doppio giro, così si ferma meglio, ok, così, zacchete, mettiamo a posto l'arricciatura, e glielo facciamo, rigirare un po' verso l'alto, se non sta fermo, poi ci metteremo un pochino di colla, però intanto lasciamolo così com'è, ora facciamo il vestitino, allora, per il vestito utilizziamo un pezzo di taffetta di 45x45, non facciamo altro che piegarlo in metà, così, e andremo ad eseguire una cucitura a macchina, qua, e poi andiamo avanti, dunque, abbiamo fatto la nostra bella cucitura, adesso cosa facciamo, lo rigiriamo al dritto, in questo modo qua, e andiamo a, mettiamo così, e andiamo a infilare un po' di imbottitura, però tutta bella stesa per bene, quindi, la tiriamo come se fosse un tappetino piatto, tutta così, e andiamo a infilargliela dentro, lasciando qualche dita qua, e qualche dita qua, allora, adesso la infiliamo dentro, così, con un po' di pazienza, andiamo ad allungarla, sentiamo con la mano, che non ci siano proprio dei buchi, qui ce ne vuole un po', così, questo lo aiuterà a mantenere un po' di volume, ok, è bello fatto col taffetta, perché, essendo cangiante, gli dà, insomma, un certo fascino, controllo che sia tutta, qui c'è un buchino, quindi andiamo a infilarla un pochino qua, al tatto si capisce dove ne manca, quindi, gli fate, una cosa così con le mani, e ci saltate fuori, allora, una volta fatto questo, io cosa faccio, prendo, arriccio qua, e arriccio qua, con una filza, quindi, prendiamo, il nostro, ago e filo, lo lascio circa, a metà così, così rimane, da quella parte, faccio dei punti, non piccolissimi, perché devo fare un'arricciatura, che si vede, arriccio, questa parte, magari se facciamo il nodo, vi viene anche meglio l'arricciatura, perché se no, ricominciate tante volte, ma non si fermerà mai, eccoci, così, 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 andiamo avanti, e poi, facciamo questa cosa qua, fino in fondo, così, e così, quindi, fin qua, nulla di difficile, tiriamo l'arricciatura, e fermiamo, il filo, così, ops, ok, una volta fermato il filo, facciamo la stessa cosa, dall'altra parte, rigiro, e ripeto l'operazione, così, cerco di stare pari, il più possibile, così, fino in fondo, e voilà, e chiudo anche qua, la filza, così, fermiamo il filo, poi dopo, si fermerà comunque, perché poi, ci verrà il collettino, ci verrà tutto, quindi, si fermerà, poi, cosa facciamo, li andiamo, a rigirare, così, e ad unire, questo giro, in questo modo, vi aiuta, a fare, questa specie, di sacchettino, con questo torsion, che è fatto con, il taffetta, sta molto bene, quindi, andiamo, a, chiudere, se volete, potete anche, cucirlo, se no, semplicemente, con la colla, andiamo a fare, questa operazione, allora, adesso, cosa dobbiamo fare, adesso, andiamo ad applicare, le braccia, quindi, un braccio, lo facciamo, leggermente, più inclinato, e lo andiamo, attaccare qua, quindi, colla, e lo applichiamo, in questo punto, così, che venga, leggermente in avanti, ma che si è messo, così, poi prendiamo, l'altro, lo lasciamo, abbastanza dritto, qua, ma pieghiamo appena, appena qua, e lo attacchiamo qua, perché questo deve andare, verso l'alto, quindi, così, e aspettiamo, un secondo, che si incollino, per bene, nel frattempo, mentre loro si incollano, li lasciamo fermi, prendiamo, un pezzo di pizzoarie, il panna, lungo, vediamo subito, quanto è lungo, lungo, esattamente, da qua, qua, 40 centimetri, quindi, facciamo una filza, dove, nella parte, in uno dei due lati, quello dove c'è lo smerlo piccolo, facciamo la filza, e andiamo a chiuderlo, con l'aiuto, sempre del gira e rigira, che ci fa da distanziatore, e lascia, che ci rimanga, un buchetto lì, quindi, giriamo due volte il filo, tiro, e vado a fare il nodo, così, e voilà, il nodo è fatto, taglio i fili, sfido il gira e rigira, posso anche chiudere, eventualmente qua, con un pochino di colla, così, e vado, a chiudere questa qua, poi cosa facciamo, adesso, nel frattempo, si sono attaccate le braccia, andiamo ad attaccare il colletto, quindi, colla, in questa zona qua, così, ne basta una sporcatura, perché dobbiamo solo tenere in posizione il colletto, dove ho fatto la congiunzione, la metto di dietro, quindi, così, e faccio questa cosa, non rimane che mettere la testolina, allora, prendiamo la nostra testolina, così, e la andiamo ad applicare qua, leggermente inclinata, quindi, colla, così, la facciamo cadere un po' all'interno, e un po' sul bordo, parto sempre un po' indietro, e la metto qui, così, adesso, un po' inclinata, appoggio al tavolo, e lascio riposare, mentre riposa, vado a preparare la stella, quindi appoggiamo, e prendiamo la stella, allora, la stella è composta da due pezzi, di, due stelle, composte da due pezzi di pannolinci, uno panna, e uno verde, e l'altro identico, uno panno e uno verde, che io andrò a cucire su tutto il perimetro, così, e lascio il taglio a vivo, quindi questo è stato cucito, in questo modo, l'unione dei due, poi ci darà quel pezzo là, possiamo mettere anche sul davanti, una stella più piccola, sul cartamodello, la trovate, l'applicate con lo stesso, con gli stessi motivi, quindi sono messi così, cucitura, potete fare, o con una filza decorativa, oppure, semplicemente, con la macchina da cucire, l'andate a cucire, dopodiché, una volta che li abbiamo messi, composti così, cuciti uno sull'altro, li andremo a cucire in questo modo, allora, qui ho queste due punte, e queste qui, cosa devo fare? Devo lasciare una parte aperta, in questo caso, lascio magari aperto da qua a qua, che faccia così, e vado a unire con la colla, le altre due parti, esattamente come ho fatto qua, io li ho uniti insieme, lasciando solo questa apertura, perché non gli faccio una cucitura a macchina, perché se no si vedrebbe una doppia cucitura, e non sta bene, basta una sporcatina di colla, su questo perimetro, e noi abbiamo risolto il problema, lascio solo aperto, perché se vado a infilarlo, dentro l'albero di Natale, dentro la punta dell'albero di Natale, mi aiuta ad avere uno spazio, che rimanga un po' aperto così, ok? Allora, adesso, cuccio la stella, in questo caso, ho fatto anche con gli stencil, la mia renna, cuccio la stella, per poi attaccarla alla manina, allora, una volta cucite le due stelle, mettiamo il verde sul verde, che è la parte interna, e facciamo una piccola decorazione qui, via, facciamo in questo caso, invece che con lo stencil, con le stelline, della fustella, quindi, sporcatura di colla, mettiamo una qua, una qua, una qua, proprio a caso, come vi viene meglio, poi potete giocarci veramente, con tanti tipi di decorazione, allora, adesso cosa dobbiamo fare, andare a incollarlo, tipo da qua a qua, facciamo così, se teniamo la parte, qui, l'abbiamo lasciata, a filo qua, vi voglio dare dei riferimenti, ben precisi, così, così, è questa, così, così, è giusta, qui, fino a qua, la punta qua, va bene, procediamo, da qua, così, poi, così, e poi, da qui, a qua, così, questa è, trac, 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 lo vado a sovrapporre, così, e aspetto un attimo, che si incolli, così, dopodiché, intanto, nel frattempo, si è attaccata la testolina, mentre si incolla questo, cosa facciamo, prendiamo due decorazioni, da mettere, nelle manine, quindi, ho preso, il filo di ferro, brunito, sottile, soft, questo qua, adesso saranno lunghi circa, perché so che mi chiedete, sempre la lunghezza, di questi qui, circa un 20 centimetri, allora, cosa facciamo, prendiamo due stelline, e, sempre di pannolenci, e, le catturiamo, cioè, catturiamo il filo di ferro, in mezzo alle stelline, così, una, facciamo la stessa cosa, l'altra la facciamo con due stelle più grandi, così, facciamo il contrasto, così, mettiamo qua la nostra stellina, e, ci mettiamo anche questa, così, così, ben fatto, una stella che possiamo mettere nella manina, che fa così, e l'altra che va nell'altro senso, quindi, inarchiamo appena un pochino, l'altra, gliela mettiamo in questa manina qua, quindi, per tenere ferma la stellina, siccome è filo di ferro, e deve stare fermo, io devo mettergli un supporto, che possa stare, quindi, devo catturarla, in mezzo, a due pezzi di stoffa, perciò, metto così, e, metto così, gli faccio questa cosa qua, e, serve fatta così, perché, se no, col tempo, il filo di ferro si staccherebbe, mentre invece, se preso tra due pezzi di stoffa, quindi, quello della telecru, e quello del pannolenci, la cosa funziona, l'altra, la devo mettere nell'altra manina, che gira in questo senso, quindi, gliela metteremo così, che esce di qua, così, fa questo gioco qua, da qua a qua, perciò, prendo un'altra stellina, e vado a, inserirla, dietro questa manina, così, facciamo così, così si vede bene, l'operazione, che ho fatto questa, così, allora, adesso, non mi rimane, che, attaccare, il nostro, angioletto, allora, una cosa che potete fare, è, metterci anche il collettino, fatto con le foglioline, giusto per fare un contrasto in più, io le ho fatte, con le foglie della fustella, un filo di foglie di fustella, ce ne potete mettere 4, 5, anche 6, volendo, lo potete aggiungere lì, se no, anche senza, sta molto bene anche senza, però, questo qui arricchisce molto, detto questo, mettiamo, la nostra manina, all'interno, dell'angolino, della stella, così, e lo attacchiamo qua, in questo modo, lo metto qua, perché se noi lo andiamo a infilare dentro l'albero di Natale, così, questa parte rimane davanti, e l'altra può stare un pochino di dietro, quindi, fate questa operazione qua, e voilà, e il nostro angioletto, la nostra punta dell'albero, è fatta. Ed ecco che abbiamo concluso, più in alto delle stelle, la nostra punta dell'albero, rinnovata, rispetto a quelle che aveva acclamato tantissimo tempo fa, e quindi abbiamo trovato una soluzione differente, non è difficile, è un approccio anche a una mezza bambola, perché facciamo le braccia imbottite, e quindi è uno di quei percorsi che si possono fare, per imparare a fare, soprattutto per i principianti, imparare a fare la bambola intera. Trovate il cartamo modello sul nostro sito, quindi andate a vedere il video invece che su YouTube, sul sito, sotto al video c'è un tasto, basta cliccare lì sopra, e salta fuori un PDF. Mi raccomando, stampatelo sempre, tutti i PDF vanno stampati in scala reale, e non in adatta pagina, perché se no cambiate le dimensioni di quello che dovete fare, quindi si rimpicciolisce, dopo non è più proporzionato con quello che diciamo di presentare. E vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, per non perdervi neanche un video. e vi ricordo di iscrivervi al nostro canale www.mesmerism.info.com.